Facco la Palecchio perché i cavi sono appunto, sembra di stare su delle funivie. Valentina forse non detta l'ultima parola, stringi i denti, sei una lottatrice mentre Matteo mancano veramente forse due tavole, due tavole forse per Matteo, forse l'ultima, sicuramente sarà prudente, cerca di posizionare un piede sulla tavola, l'altro piede, ti ricordo devi portare tutte e due le tavole sulla tua piattaforma, una l'ha posizionata, adesso sta distendendo le gambe, forse vuole essere certo che questo sia un passaggio netto, ci siamo quasi, siamo per eleggere, intanto Valentina cade alla sua tavola, eleggere il prossimo finalista dell'Isola dei Famosi, è lui Matteo, complimenti a Matteo, veramente complimenti a Matteo. Ed è Matteo, Matteo complimenti, sei ufficialmente il quarto finalista dell'Isola dei Famosi 2021.